Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Preciso subito, se vedete il ventilatorino rosa lì davanti, è perché si inizia a non starci più qui in Ezzo Park e fa un caldo della madonna. Oggi vi voglio, finalmente, finalmente, non ci credevo quando mi è arrivato, presentare Evil Dead 2, il Kickstarter completo, vale a dire il gioco base, più l'extra pack, che inserisce 9 mostri, quindi 9 boss da affronteggiare, 9 carte, sia per i boss che anche carte evento, e in più tutti gli oggetti che potete trovare nel gioco in 3D. Prodotto dalla Jasko Games, che è l'editore, che io ringrazio di cuore per avermene fornito una copia, anzi tutto il Kickstarter per la recensione, soprattutto prodotto che è arrivato dall'America. Questo qui è partito da Las Vegas e nel giro di 5-6 giorni, era già, no, 4 giorni scusate, c'era già arrivata a casa in Italia. Quindi grazie di cuore alla Jasko Games, è un onore disumano, anche perché, detto sinceramente, fra tanti progetti Kickstarter, era uno di quelli che volevo di più, perché si parla di Evil Dead 2, di Evil Dead 2, si parla della Casa 2, si parla di Ash, quindi Ash J. Williams, penso non ci sia da aggiungere nient'altro. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Evil Dead 2 è un gioco cooperativo, fino a un certo punto, è, diciamo, cooperativo, all'80%, però può capitare una situazione in cui verrete trasformati, qui li chiamano i Deadite, che sono praticamente i demoni, non me la sento di chiamarli zombie nella meditazione della casa di Ash, potrete diventare un demone, appunto, contagiato dall'influenza nefaste dei demoni kandariani e del Necronomicon, e a quel punto li giocherete nascosti o rivelandovi per remare contro i giocatori. Mi vengono un po' in mente due giochi, Battlestar Galactica o anche Hugosder. Quindi, comunque è un gioco in cooperativa, però a un certo punto, quando genererete una carta e scoprirete di essere stati posseduti dai demoni kandariani, dovrete giocare in tutt'altra maniera. Alla fin fine il gioco si risolve che la squadra, fino a che siete umani, dovete trovare, come avete visto nella Casa 2, le pagine del Necronomicon, disperse per tutta quanta, la casa e anche fuori nel bosco, radunarle, chiudere il portale da cui vogliono entrare i demoni kandariani. Mentre invece, se sarete un demone, dovrete fare il possibile per aprire il portale e far sì che i demoni kandariani entrino all'interno, appunto, del mondo materiale, del nostro mondo. Ovviamente ha una componentistica disumana, non è il progetto fallimentare, quello della Space Goat, questo è il progetto della Jasko Games, che infatti non vedevo l'ora che uscisse, ed è veramente un bel gioco, sia come componenti che come regole. Anzi, le regole sono talmente facili che io veramente penso, basta leggersi il manuale mezza volta e già avete capito tutto quanto. Ed è un gioco molto divertente, da tre giocatori in su. Vi faccio vedere un po' come funziona, ma prima, unboxing, confezione del gioco, vedete, bella grande, anche perché piena zeppa di contenuti, ovviamente il volto del Necronomicon e questa qui è una prima copertina che si può togliere e sotto c'è la confezione vera e propria. Il volto, quello della prima confezione che ho tolto, del copre confezione, era necronomicon spento, tra virgolette, tra virgolette, normale. Questo qui è quando è bello, invece, incazzoso risvegliato. E poi abbiamo l'extra pack, che vedete ci hanno fatto direttamente l'esterno della casa, con le finestre barricate e la porta bella rossa iniettata di sangue. E qui ve lo faccio vedere subito, tanto poi comunque sarà materiale per altri video. C'è ovviamente un librettino che ci dice che cosa c'è all'interno. Abbiamo un nuovo piccolo mazzo degli eventi, che sono queste carte nere. E poi abbiamo altri boss, altri nemici da affronteggiare, altri demoni. E gli oggetti che anche possiamo trovare, vedete il boomstick e tutte le altre cose fisicamente in 3D e non più soltanto token come erano prima. E poi, tra le cose più iconiche che ci sono all'interno, abbiamo un hash. Quando impazzisce, ve lo ricordate che impazzisce? Che c'è tipo la testa del cervo impagliata nel muro che inizia a ridere? Ah ah ah, lui ah, che impazzisce e ride. Ed eccolo qui, bellissimo. La mano, ovviamente, se l'era già bella e amputata. E poi abbiamo in rietta, la moglie del professore, nella sua trasformazione finale, con la testa allungata. E questi qui ovviamente sono boss. Quindi abbiamo sia hash a livello impazzito, che in rietta, mostruosamente trasformata, più tutti quanti i mazzi dei nuovi mostri che ci sono e degli eventi. Apriamo la confezione principale. Il regolamento, guardate già questa immagine, cioè uno apre il regolamento, trova l'immagine di hash, con un'introduzione fatta da lui stesso, che è veramente bellissima. Poi, tutti quanti i contenuti. E le regole sono, ragazzi, facilissime, spiegate bene. E vi giuro, l'hanno fatta nel modo giusto, perché deve essere un gioco piacevole e scorrevole. Infatti le regole ve le spiego in due minuti, perché sono veramente semplicissime. Il manuale, tra l'altro, è pieno di figure, riferimenti, esempi, quindi è fatto veramente bene. Vi faccio vedere chi c'è qua giù in fondo. E in rietta, trasformata in demone, che poi era Ted Raimi. Praticamente il fratello del regista di Sam Raimi, ed è quello che nella serie di Xena faceva la parte Corrilo. Qua dentro fa vedere che la Jasko Games hanno fatto anche il board game di Buffy, che, detto sinceramente, anche una partitella ce la farei, perché come serie televisiva Team Movie di quell'anni lì, qui fa vedere tutte e quanti cose... Ah, una cosa che c'era in più nel Kickstarter era il CineStory, il libro con tutte le immagini del secondo film. Questo è veramente bellissimo, spero di riuscire ad avere un giorno. E anche il gioco di Buffy, sinceramente, lo proverei. Una partitella ce la farei volentieri. Qui ci sono tutti quanti i token, che ora sono divisi, vedete, questo qua giù. Queste due tabelle, che ora si stanno staccando. Qui accanto i token dei punti ferita e le tabelle riassuntive con tutti gli oggetti che potete trovare, perché, vedete, ci sono vari token, vari oggetti che potete trovare in gioco, che con l'espansione extra pack diventano direttamente in 3D, e qui accanto vi dà la descrizione di cosa sono i vari pezzi, più, appunto, tutti i vari token che potete trovare a giro per la casa, le pagine del Necronomicon, più le barricate che potete andare a posizionare e quant'altro. Il mazzo delle carte degli eventi, poi, ovviamente, ci sono anche i mazzi carte evento, carte mostro, carte personaggio, tutti i mazzi sono qui, vedete, anche qui davanti c'è in retta, i dadi del gioco, che sono 3, due boss, che sono l'albero gigante e l'albero assassino, che questo, quando entra in gioco, sta fermo su una posizione e ti tira verso di lui, e poi, se vi ricordate, il demone, quello che appare alla fine quando aprono il portale, che, appunto, poi rimanda Ash nel Medioevo, e questo qui è il demone finale da combattere. Vedete, la porta della casa che si sfonda e lui che entra. Un po' di miniature dei nostri eroi, in versioni sia normali che demone, perché, ovviamente, non c'è soltanto Ash, ci sono anche Bobby Joe, c'è Linda, la sua ragazza, ci sono tutti i personaggi del film, che ora poi vi faccio vedere un pochino. Qua giù ci sono altri demoni, e dentro c'è anche Ash con la motosega, che a breve vi mostro. E poi, qui, belli imbottiti, ci sono un'altra marea di miniature. Tanto vi faccio vedere un po' come funziona. Questo qui è il setup iniziale di una partita. Vedete la cabin, le finestre da cui si può entrare ed uscire, la porta di entrata, e tutti quanti i token che dovete mettere, che sono questi col punto interrogativo, che sono oggetti e pagine del Necronomicon. Le dovete andare a mettere per come c'è segnato. Se c'è scritto per due, ce ne dovete mettere due. Casualmente, potrebbero essere due pagine, come due oggetti, o come un oggetto e una pagina. Dove c'è scritto uno, ce ne mettete uno. Visto che noi ora simuliamo una partita a tre giocatori, dove c'è scritto cinque giocatori, quattro giocatori, e cose del genere, tipo qui non ci mettete niente, perché questa qui è una zona solo se ci sono quattro giocatori. Noi abbiamo scelto come personaggi Ash, eccolo qui, col boomstick, la motosega, e questa è la sua carta. Abbiamo scelto Linda, che è la ragazza di Ash, e la sua carta è questa qui, che ora ve le descrivo un po', e poi Jake, se vi ricordate, il meccanico, quello che arriva con la ragazza, Bobby Joe. Ora, le caratteristiche sulle carte sono i punti ferita, banale dirvi che quando scendono a zero il personaggio è morto, l'attacco, il valore di attacco, quindi il numero di dadi che vengono tirati dal personaggio, ovviamente se ha anche un'arma che gli fa tirare più dadi, gli dà dei successi automatici, li andate a sommare, comunque il massimo dei dadi che si tirano in Evil Dead 2 sono 3, speed, di quante caselle si muove, e in più la virtù. Il tiro di virtù è quando dovete vedere se prendete una carta corruzione, che sono queste carte qua giù, questo mazzo qua giù, che sono le carte corruption, ma queste ve le faccio vedere successivamente. Scopo del gioco è quello di prendere le pagine del Necronomicon e metterle dalla parte del seal, della chiusura del portale, da questa parte qua, se siete umano. Se siete corrotto invece dovete sammonare i demoni. E vedete, in una partita tra i giocatori c'è da arrivare fin qua per poter chiudere il portale, quindi 1, 2, 3, 4, 5 pagine del Necronomicon. Se fate una partita a 6 giocatori ne servono di più. Se siete malvagio, le pagine non dovete metterle di qua, ma le dovete mettere da quest'altra parte. Regola del gioco vuole che all'inizio di un turno, lascio la carta qui di Ash per farvi vedere anche un pochino le caratteristiche mentre vi spiego, all'inizio di un turno c'è la fase degli eventi. mazzo degli eventi e questo qua giù che va mischiato in una maniera particolare perché a un certo punto dovrà uscire un evento particolare che va messo al centro del mazzo. Pescate la carta evento. Prima di tutto fate lo spawn dei mostri che c'è segnato qua giù in fondo per una partita a 3 giocatori questi 2, per una partita a 4 questi 2 più questo, per una partita a 5 questi più questo. Basta seguire, quindi in questo caso a 3 giocatori ci chiede mettete i due demoni uno in E e uno in G. quindi noi andiamo a prendere i due demoni e ne metteremo uno in E che spona da qua giù e uno in G e la fase di spawn è fatta e poi ovviamente leggete l'evento evento che potrebbe essere immediato o durare per tutto il turno. Si è abbassato un po' la visuale così vedete anche quello. Quindi l'evento è giocato fate quello che c'è scritto e l'evento è pronto. Se giocate da 1 a 3 personaggi avete 3 azioni a testa se giocate con 4 più personaggi avete 2 azioni a testa quindi con le 3 azioni che abbiamo a testa possiamo fare anche 3 volte la stessa azione azione che può essere movimento azione che può essere cercare e raccogliere un oggetto azione che può essere scambiare con un altro personaggio alla zombie side o azione che può essere attacco sia chiaro che ciascun personaggio ha un livello di movimento ad esempio Ash ha movimento 2 e Linda ha movimento 3 questa cosa vuol dire che quando userete un'azione per muovervi Ash si potrà muovere di due stanze vedete spostandovi le carte le stanze sono connesse vedete ci sono direttamente le righe questa stanza è un movimento il corridoio è tutto un movimento un movimento qui vedete ci sono le intercapedini che girano intorno al bagno se vi ricordate quando Ash ci scappa per nascondersi dal demone kandariano mentre invece nella sala principale sono 3 stanze separate cioè 3 step per muoversi quindi Ash avendo un movimento di 2 partendo da qui visto che è connessa dalla porta potrebbe fare 1 e 2 arrivare qui Linda invece con un'azione muovendosi di 3 potrebbe fare 1 2 3 andare fuori oppure andare di qua quindi per ogni azione che fate di movimento dovete vedere il valore di speed che avete qui poi c'è l'azione di raccogliere che è un'altra azione quindi raccolgo questo oggetto qui lo giro e vado a vedere cos'è mi è andata di fortuna perché è una pagina del Necronomicon e ne potete portare quante ne volete le potete portare tutte quelle che trovate quindi non c'è un limite non vi dovete preoccupare ricordatevi che se trovate degli oggetti avete qui la leggenda che vi dicono che oggetti sono e che cosa fanno quindi c'è una leggenda per ogni giocatore sono queste belle tabellone qua giù belle spesse in cartoncino ora avete trovato la pagina del Necronomicon come detto con le azioni successive voi dovete prendere le pagine del Necronomicon metterle qua su in cima fino a che non avrete riempito tutto e dovrete attivare la formula per appunto sigillare il portale nel caso diventerete dei demoni invece dovete mettere dalla parte opposta quando arriva la fase dei giocatori ve l'ho detto fate i movimenti fate le azioni che dovete fare quando arrivano invece anche di qua vediamo girando ad esempio c'è una cetta la cetta ci viene incontro qua giù e ci dice che potete ritirare un dado eccolo qua vi fa vedere cos'è la cetta quindi questo equipaggiamento qui dandolo al nostro personaggio all'inda quando andrà a tirare i dadi potrà ritirare un dado che non gli piace fatta la fase dei giocatori c'è la fase dei mostri i mostri si muovono sempre e solo i deadite cioè i demonetti poi i boss ovviamente hanno altre regole tipo questo qui dove spona rimane fermo e vi tira verso di lui questo qui invece uguale rimane sulla porta e vi trascina verso di lui poi invece ci sono altri mostri tipo Henrietta che invece entreranno all'interno della casa e proveranno ad uccidervi tra l'altro fra i tanti mostri c'è la bellissima mano di Ash mozzata e poi eccola qua giù Henrietta che esce dalla cantina ti succherò l'anima che è veramente spettacolo e tra l'altro il boss per abbatterlo dovete tirare tre ferite tutti insieme quindi è praticamente quasi impossibile ammassare in reta ma come nel film giustamente finite le azioni dei giocatori tutti i demoni si muovono di uno verso il giocatore più vicino paro paro a zombie side quindi questo che è qui vedete questa qui è una zona tutta quanta collegata questo qua giù arriverà qui con la sua azione e finirà il suo turno qui i demoni come detto fanno la strada più breve verso il giocatore più vicino questo demone può tranquillamente passare dalla finestra con l'unica regola che se qui invece di esserci un demone ce ne fossero due uno soltanto dei due potrebbe sfondare la finestra e tutti i dati dovrebbero finire il turno là fuori regola vuole che se voi avete barricato qualcosa tipo la porta di entrata perché potete trovare anche gli oggetti barricate il demone non la può sfondare alcuni boss magari si e non può entrare quindi non è che cercherà come in zombie side di fare il giro più breve per arrivarvi addosso oppure sfondarla il demone rimarrà qua dietro quindi ipoteticamente se Ash per tutta la partita rimane qui ed è il giocatore più vicino a questo demone questo demone è praticamente bloccato per tutta la partita al momento che la togliete vale la regola che ne può entrare uno e quell'altro rimane fuori quando si va in combattimento prima vi spiego il movimento azione di movimento vuole che se io mi muovo dentro una casella con più demoni che eroi quindi se ce n'è una uno questa regola non vale ma se ce ne sono due il mio movimento viene ridotto a uno quindi per quanto Ash abbia speed 2 se da qui si muove in una casella con dei demoni ha già finito il movimento se vuole andare via si rimuove un'altra volta di uno quindi tutto quanto il movimento viene ridotto a uno per muoversi dentro o fuori da una casella con dei demoni quando si va a combattere un demone si vanno a tirare i dadi i dadi sono la caratteristica attacco del personaggio a meno che ad esempio facciamo conto che se Ash avere l'accetta di Linda che gliel'ha passata potrà ritirare un dado si prendono semplicemente i dadi si tirano e i simboli che ci sono sopra sono fallimento la testa di Henrietta questo qui niente di fatto e la motosega è un colpito quanti colpiti avete fatto? uno e il demone è morto non c'è da tirare difesa non c'è da tirare niente tutti i demoni hanno un punto ferita a parte ovviamente i boss quindi nel caso se qui ci fossero stati due demoni e io avessi tirato due motoseghe erano tutti e due morti ora quando i demoni attaccano noi nella loro fase quindi quando arriva la fase dei demoni e magari la situazione è la stessa ce ne abbiamo due in corpo a corpo visto che come vi ho detto si tirano solo massimo in questo gioco tre dadi se ci sono due demoni se ne tirano due se ci sono tre demoni se ne tirano tre se ci sono quattro cinque o più demoni in corpo a corpo con un personaggio tutti i demoni in più oltre tre per cui si possono tirare i dadi fanno automaticamente una ferita quindi di questi cinque due farebbero direttamente una ferita hash quindi andate a prendere i token gliele mettete ovviamente vicino alla scheda per ricordarvi che hash ha subito due punti ferita e poi tocca agli altri demoni gli altri demoni tirano due dadi anche loro per loro il risultato del successo è un niente di fatto perché il successo è un successo solo per i giocatori quindi è un niente di fatto se viene questo risultato qui in nero se siete in possesso di una pagina del necronomicon dovete dropparla a terra quindi praticamente la droppate nella casella dell'oggetto tranquilli anche se superate il massimo livello indicato sopra il massimo numero perché è soltanto per il setup iniziale quindi nel caso ci fosse un altro oggetto qui già coperto comunque voi ce l'andate a droppare sopra quindi qui ci avete perso la pagina del necronomicon e dovete fare un virtù check se invece fallite che viene la faccia del mostro dovete fare un check virtù perdete una pagina del necronomicon e in più vi fa una ferita quindi andate a giungere le ferite vi ricordo che quando le ferite del personaggio arrivano a zero il personaggio è morto quando vi chiederà il gioco di fare un virtù check di solito durante eventi o quando subite una ferita perché anche se subite una ferita da un demone dovete fare subito un check di virtù o in altri casi quando praticamente nella fase dei mostri sono loro a ferirvi di solito quando subite una ferita in tutti i casi dovete fare un check di virtù il manuale che ora spero si vederà qualcosa ci dà una tabella che ci dice il risultato che bisogna fare di solito basta fare un risultato nelle zone nei momenti più difficili bisogna farne tre e qui sopraggiunge un problema che io ho trovato veramente molto 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 carino e divertente guardate il livello di virtù Ash ha un valore di virtù di uno quindi tira un dado solo Linda ha un valore di virtù di due quindi tira due dadi quindi Ash almeno che non abbia un oggetto particolare e con le pagine del Necronomicon si possono lanciare anche incantesimi ma è tutta una cosa che vi invita a vedere nel manuale c'è la possibilità di muoversi più velocemente c'è la possibilità di diventare più potenti praticamente bruciando la pagina del Necronomicon e usandola per salvarsi un po' la pellaccia comunque a parte quella dei casi se non ci sono bonus Ash ha virtù 1 quindi anche se supera il successo di virtù e il successo richiedeva due o tre successi per superare la prova Ash la fallisce infatti se vi ricordate nel film Evil Dead 2 Ash diventa sempre un demone Linda può superare testa a difficoltà 2 perché il massimo ne ha 2 ma testa a difficoltà 3 e li fallirà quindi occhio perché ci sono alcuni incantesimi che vi dicono sono potentissimi magari vi fanno distruggere tutti i demoni in una zona oppure vi fanno muovere di molte più caselle rispetto al vostro movimento però poi dovrete fare un check e se lo fallite succederà una cosa brutta che vi faccio vedere comunque quando fate il check virtù tirate il dado se esce un fallimento l'avete fallito se esce un successo avete superato il check di virtù se lo superate non succede niente di strano se lo fallite dovete prendere una carta corruzione ciascun giocatore all'inizio prende una carta corruzione che in questo caso sei umano come nella cosa e la deve tenere segreta cioè lui ovvio che la può vedere perché la può vedere da un certo momento in poi quindi inizialmente quando le pescate anche chi la pesca non la può vedere c'è un momento che ve lo dice il regolamento quando iniziano a apparire i primi demoni che vi dà la possibilità di vedere la vostra carta quindi inizialmente non lo sapete se siete umani o demoni però successivamente ho subito un'altra ferita check di virtù fallito pesca un'altra carta check di virtù perché ho usato un incantesimo pesca un'altra carta e così via fino a che non arrivate a pescarne anche soltanto una con scritto deadite queste carte non le dovete mai mostrare agli altri giocatori mai al momento che voi avete questa carta deadite e quindi siete un demone voi potete continuare a giocare come un normale avventuriero uguale senza mostrarvi oppure potete decidere di rivelarvi con la differenza che ora le pagine del necronomicon le dovete usare non da questa parte qua giù per chiudere il portale ma le dovete mettere di qua per evocare quindi la prima la prima che mettete di qua per evocare ormai lo sanno che siete un demone quindi vi potete anche rivelare oppure quando decidete di attaccare un altro giocatore perché finché siete umani non potete attaccare gli altri ma quando diventate un demone potete ammazzare anche gli altri giocatori e in più diventando demone gli altri demoni non vi bloccheranno più e non vi attaccheranno più quindi potete passarci attraverso senza limitazione e in più non vi attaccano attaccano direttamente gli altri giocatori quindi mettiamo a caso Ash avesse preso la carta Deadite e fosse diventato un demone lo togliete e ci mettete la sua miniatura demoniaca al momento che siete demoni non potete più tornare normali ormai la partita cambia e vi ricordo potete giocare nascosti e mascherati sabotando le azioni degli altri però come attaccate un altro giocatore come decidete di passare attraverso i demoni e i demoni non vi attaccano e come mettete una carta del Necronomi con una pagina qua giù vi dovete per forza di cose rivelare e quindi le meccaniche del gioco cambiano ragazzi ben o male le regole sono tutte qui poi ovviamente come dico sempre qualcosa in più ci sarebbe però va sicuro che il funzionamento del gioco e tutto qui è veramente immediato e ragazzi è divertente da morire e poi la figata più grande sono i boss da combattere quindi i demoni kandariani più potenti tra cui c'è anche Henrietta che vedete qua giù hanno tutte quante le loro carte e Henrietta ha dei poteri particolari ma soprattutto la sua resistenza è che le dovete fare tre ferite tutte insieme come all'abominio di Zombicide tre ferite tutte insieme nello stesso attacco non in attacchi in due attacchi differenti non li fanno niente perché rigenera le ferite dovete farle tre ferite nello stesso attacco per sconfiggerla e ucciderla e vedete bene che Ash lo può fare perché attacco tre Linda no perché attacco uno quindi non ce la può fare a ucciderla o verrà aiutata da Ash o troverà equipaggiamenti tipo la motosega e il boomstick che le daranno successi automatici ragazzi bene o male il gioco è tutto qui in conclusione ragazzi questo gioco è veramente uno spettacolo e per tutti i fan di Ash e della casa 2 è veramente toccasare quando hanno fatto la domanda a Giasco Games agli autori gli hanno detto ma pensate di fare anche l'armata delle tenebre erano lì che ridichiamolo un po' secondo me ne vedremo delle belle anche perché ci sta come espansione vi ho fatto vedere il gioco base con le regole e nell'extra pack che vi ho fatto vedere al momento dell'unboxing ci sono miniature di boss in più e soprattutto gli oggetti che potete trovare dentro il gioco tipo il fucile il boomstick la motosega e quant'altro tutti quanti fatti in 3D quindi è una figata disumana e secondo me vanno presi assolutamente insieme a livello di disegno a livello di carte a livello di regole a livello di risiocabilità a livello soprattutto di miniature ragazzi per tutti i fan come me di Evil Dead dovete assolutamente prenderlo ed è ovviamente un gioco che non vi deve mancare nella collezione perché è un cult storico della nostra infanzia se li devo dare un voto assolutamente un 10 su 10 perché anche questo è un gioco come lo squalo della Ravensburger che la trasposizione perfetta del film voi andate a giocare il film lo respirate dal primo tiro di dadi all'ultimo e poi le regole molto veloci appunto facilitano lo svolgimento del gioco e in una sessantina di minuti avrete fatto una partita che sicuramente poi ne tirerà un'altra veramente veramente molto bello 10 su 10 meritatissimo ringrazio Jasko Games grazie per avermi offerto una copia per la recensione tutto quanto anche con l'extra pack se lo volete acquistare link in sovrimpressione primo link in descrizione dalla Borgame Discount al miglior prezzo sul mercato e ripeto se il gioco non lo trovate in lista mandategli una mail al supporto e li scrivete arrivo dal canale di Coridan si potrebbe avere questo gioco non solo faranno il possibile per farvela avere però anche al miglior prezzo possibile sul mercato e se non lo volete pagare una volta sola lo potete pagare in tre rate senza alcun finanziamento quindi grazie di cuore ancora una volta a Jasko Games ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate lasciando un commento bellissimo ciao alla prossima ciao a tutti